Un osso di morto Lascio a chi mi legge l'apprezzamento del fatto inesplicabile che sto per raccontare. Nel 1855, domiciliato mia a Pavia, mi era dato allo studio del disegno in una scuola privata in quella città e dopo alcuni mesi di soggiorno aveva stretto relazione con certo Federico M., che era professore di patologia e di clinica per l'insegnamento universitario e che morì di apoplessia fulminante pochi mesi dopo che lo aveva conosciuto. Era uomo amantissimo delle scienze e della sua in particolare. Aveva virtù e doti di mente non comuni e nonché, come tutti gli anatomisti e i clinici in genere, era scettico profondamente e inguaribilmente. Lo era per convinzione e io potei mai indurlo alle mie credenze, per quanto mi vi adoprassi nelle discussioni appassionate e calorose che avevamo ogni giorno a questo riguardo. Non di meno, e piace mi rendere questa giustizia alla sua memoria, egli si era mostrato sempre tollerante di quelle convinzioni che non erano le sue, ed io e quanti il conobbero abbiamo osservato la più cara rimembranza di lui, Pochi giorni prima della sua morte, egli mi aveva consigliato ad assistere alle sue lezioni di anatomia, adocendo che ne avrei tratte non poche cognizioni giovevoli alla mia arte del disegno. Ma consentii, benché repugnante, e spinto dalla vanità di parergli meno pauroso che non fossi, lo richiesi di alcune ossa umane, che egli mi diede e che io collocai sul caminetto della mia stanza. Con la morte di lui io aveva cessato di frequentare il corso anatomico, e più tardi aveva anche desistito dallo studio del disegno. Non di meno aveva conservato ancora per molti anni quelle ossa, che l'abitudine di vederle me le aveva rese quasi indifferenti, e non sono più di pochi mesi che, colto da subite paura, mi risolse a seppellirle, non trattenendo presso di me che una semplice rotella di ginocchio. Questo sicino sferico e liscio, che per la sua forma e la sua piccolezza io avevo destinato, fin dal primo istante che lebbi, a compiere l'ufficio di un premicarte, come quello che non mi richiamava alcuna idea spaventosa, si trovava già collocato da undici anni sul mio tavolino, allorché ne fui privato del modo più inesplicabile che sto per raccontare. Avevo conosciuto a Milano, nella scorsa primavera, un magnetizzatore assai noto tra gli amatori di spiritismo, e aveva fatto istanze per essere ammesso ad una delle sue sedute spiritiche. Ricevetti poco dopo invito di recarmivi, e vi andai agitato da prevenzioni si tristi che più volte, lungo la via, era stato quasi in procinto di rinunciarvi. L'insistenza del mio amor proprio mi aveva spinto mio malgrado. Non starò a discorrere qui delle invocazioni sorprendenti a cui assistetti. Basterà dire che io fui sì meravigliato delle risposte che ascoltammo da alcuni spiriti, e la mia mente fu sì colpita da quei prodigi che, superato ogni timore, concepì il desiderio di chiamarne uno di mia conoscenza e rivolgergli io stesso e alcune domande che aveva già meditate e discusse nella mia mente. Manifestata questa volontà, venne introdotto in un gabinetto appartato, ovve fui lasciato solo, e poiché l'impazienza e il desiderio di invocare molti spiriti a un tempo mi rendevano titubante sulla scelta, ed era mio disegno di interrogare lo spirito invocato sul destino umano e sulla spiritualità della nostra natura, mi venne in memoria il dottor Federico M., col quale, vivente, aveva avuto delle vive discussioni su questo argomento e deliberai di chiamarlo. Fatta questa scelta, mi sedette a un tavolino, disposi innanzi a me un foglietto di carta, intinsi la penna nel calamaio, mi posi in atteggiamento di scrivere e concentrandomi per quanto era possibile in quel pensiero che raccolta tutta la mia potenza di volizione e direttale a quello scopo, attesi che lo spirito del dottore venisse. Non attesi lungamente, dopo alcuni minuti di indugio, mi accorsi per sensazioni nuove e inesplicabili che io non era più solo nella stanza, senti per così dire la sua presenza e prima che avessi saputo risolvermi a formulare una domanda, la mia mano agitata e convulsa, mossa come da una forza estranea alla mia volontà, scrisse me inconsapevole queste parole. «Sono a voi. Mi avete chiamato in un momento in cui delle invocazioni più esigenti mi impedivano di venire. Né potrò trattenermi ora qui, né rispondere alle interrogazioni che avete deliberato di farmi. Non di meno vi ho obbedito per compiacervi e perché aveva bisogno io stesso di voi ed era gran tempo che cercava il mezzo di mettermi in comunicazione col vostro spirito. Durante la mia vita mortale vi ho date alcune ossa che aveva sottratte al gabinetto anatomico di Pavia e tra le quali vi era una rotella di ginocchio che ha appartenuto al corpo di un ex inserviente dell'università che si chiamava Pietro Mariani e di cui io aveva sezionato arbitrariamente il cadavere. Sono ora undici anni che egli mette alla tortura al mio spirito per riavere quell'ossicino inconcludente. Necessa di rimproverarmi amaramente quel lato, di minacciarmi ed insistere per la restituzione della sua rotella. Ve ne scongiuro per la memoria forse non ingrata che avrete serbato di me se voi la conservate tuttora restituitegliela scioglietemi da questo debito tormentoso io farò venire a voi in questo momento lo spirito del Mariani. Rispondete Atterrito da quella rivelazione io risposi che conservava di fatto quella sciagurata rotella e che era felice di poterlo restituire al suo proprietario legittimo che non vessendo altra via mandasse da me i Mariani. Ciò detto dirò meglio pensato sentì la mia persona come alleggerita il mio braccio più libero la mia mano non più ingranchita come di anzi e compresi in una parola che lo spirito del dottore era partito. Stetti allora un altro istante ad attendere la mia mente era in uno stato di esaltazione impossibile a definirsi in capo ad alcuni minuti riprovai gli stessi fenomeni di prima benché meno intensi e la mia mano tracinata dalla volontà dello spirito scrisse queste altre parole lo spirito di Pietro Mariani ex inserviente dell'università di Pavia è in ansia a voi e reclama la rotella del suo ginocchio sinistro che ritenete indebitamente da undici anni rispondete questo linguaggio era più conciso e più energico di quello del dottore io replicai allo spirito io sono dispostissimo a restituire a Pietro Mariani la rotella del suo ginocchio sinistro e lo prego anzi di perdonarmene la detenzione illegale desidero però di conoscere come potrò effettuare la restituzione che mi è domandata allora la mia mano tornò a scrivere Pietro Mariani ex inserviente dell'università di Pavia verrà a riprendere gli stesso la sua rotella quando chiesi io atterrito e la mano vergò istantaneamente una sola parola stanotte annichilito da quella notizia coperto di un sudore cadaverico io mi affrettai ad esclamare mutando tuono di voce ad un tratto per carità vi scongiuro non vi disturbate manderò io stesso vi saranno altri mezzi meno incomodi ma non avevo finito la frase che mi accorsi per le sensazioni già provate da prima che lo spirito di Mariani si era allontanato e che non vera più mezzo ad impedire la sua venuta è impossibile che io possa rendere qui con le parole l'angoscia delle sensazioni che provai in quel momento io era in preda ad un panico spaventoso uscii da quella casa mentre gli orologi della città suonavano la mezzanotte le vie erano deserte i lumi delle finestre spenti le fiamme nei fanali offuscate da un nebbione fitto e pesante tutto mi pareva più tetro del solito camminai per un pezzo senza sapere dove dirigermi un istinto più potente della mia volontà mi allontanava dalla mia abitazione dove attingere il coraggio di andarvi io avrei dovuto ricevervi in quella notte la visita di uno spettro era un'idea da morirne era una prevenzione troppo terribile volle allora il caso che aggirandomi non so più per qual via mi trovassi di fronte a una bettola su cui vi discritto a caratteri intagliati in cui vi discritto a caratteri intagliati in un pannello e illuminati da una fiamma interna vini nazionali e io dissi senz'altro a me stesso entriamovi è meglio così e non è un cattivo rimedio cercherò nel vino quell'ardimento che non ho più il potere di chiedere alla mia ragione e cacciatomi in un angolo d'una stanzaccia sotterranea domandai alcune bottiglie di vino che bevetti con avidità benché repugnante per l'abitudine all'abuso di quel liquore ottenni l'effetto che aveva desiderato ad ogni bicchiere bevuto il mio timore svaniva sensibilmente i miei pensieri si dilucidavano le mie idee parevano riordinarsi quantunque con un disordine nuovo e a poco a poco riconquistai talmente il mio coraggio che risi meco stesso del mio terrore e mi alzai e mi avviai risoluto verso casa giunto in stanza un po' barcollante per il troppo vino bevuto accesi il lume mi spogliai per metà mi cacciai a precipizio nel letto chiuse un occhio poi un altro e tentai di addormentarmi ma era indarno mi sentiva assopito irrigidito catalettico impotente a muovermi le coperte mi pesavano addosso e mi avviluppavano e mi vestivano come fossi di metallo fuso e durante quell'assopimento incominciai ad avvedermi che dei fenomeni singolari si compievano intorno a me dall'ucignolo della candela che mi pareva avere spento che era d'altronde un'astearica pura si sollevavano in giro delle spire di fumo si fitte e si nere che raccogliendosi sotto il soffitto lo nascondevano e assumevano apparenza di una cappa pesante di piombo l'atmosfera della stanza divenuta un tratto soffocante era impregnata di un odore simile a quello che esala dalla carne viva brustolita le mie orecchie erano assordate da un brontolio incessante di cui non sapevo indovinare le cause e la rotella che vedeva lì tra le mie carte pareva muoversi e girare sulla superficie del tavolo come in preda a convulsioni strane e violente durai non so quanto tempo in quello stato io non poteva distogliere la mia attenzione da quella rotella i miei sensi le mie facoltà le mie idee tutto era concentrato in quella vista tutto mi attraeva a lei io voleva sollevarmi di scendere dal letto uscire ma non mi era possibile e la mia desolazione era giunta a tal grado che quasi non ebbe a provare alcuno spavento allorché dissipandosi a un tratto il fumo emanato dall'ucignolo della candela vi di sollevarsi la tenda dell'uscio e comparire il fantasma aspettato io non batteva palpebra alzatosi fino alla metà della stanza si inchinò cortesemente e mi disse io sono Pietro Mariani e vengo a riprendere come vi ho promesso la mia rotella e poiché il terrore mi rendeva esitante a rispondergli egli continuò con dolcezza perdonerete se ho dovuto disturbarvi nel colmo della notte in quest'ora capisco che la è un'ora incomoda ma no è nulla è nulla lo interruppi rassicurato da tanta cortesia io vi debbo anzi ringraziare della vostra visita io mi terrò sempre onorato di ricevervi nella mia casa me ne sono grato disse lo spettro ma desidero ad ogni modo giustificarmi dell'insistenza con cui ho reclamato la mia rotella sia presso di voi sia presso l'egresio dottore dal quale l'avete ricevuta osservate e così dicendo sollevò un lembo del lenzuolo bianco in cui era avviluppato e mostrandomi lo stinco della gamba sinistra legato al femore per mancanza della rotella con un nastro nero passato due o tre volte nell'apertura della fibula fece alcuni passi per la stanza dove farmi conoscere che l'assenza di quell'osso gli impediva di camminare liberamente tolga il cielo io dissi allora con accento d'uomo mortificato che il degno ex inserviente dell'università di pavia abbia a rimanere soppicante per mia causa ecco la vostra rotella là sul tavolino prendetela e accomodatela come potete al vostro ginocchio lo spirito si inchinò per la seconda volta in atto di ringraziamento si slegò il nastro che gli congiungeva il femore allo stinco lo posò sul tavolino e prese la rotella e incominciò ad adattarla alla gamba che notizie ne recate dall'altro mondo gli occhiace allora vedendo che la conversazione languiva durante quella sua occupazione ma egli non rispose alla mia domanda ed esclamò con aspetto attristato questa rotella è alquanto deteriorata non ne avete fatto un buon uso non credo io dissi ma forse che le altre vostre ossa sono più solide il ditacco allora si inchinò la terza volta per salutarmi e quando fu sulla soglia dell'uscio rispose chiudendone l'imposta dietro di sé sentite se le altre mie ossa non sono più solide e pronunciando queste parole percosse il pavimento col piede con tanta violenza che le pareti ne tremarono tutte e a quel rumore mi scossi e mi svegliai e appena desto intesi che era la portinaia che picchiava all'uscio e diceva sono io si alzi mi venga ad aprire oh dio esclamai allora fregandomi gli occhi col rovescio della mano era dunque un sogno nient'altro che un sogno che spavento sia lodato al cielo ma quale insensatezza credere allo spiritismo ai fantasmi e infilzati in fretta ai calzoni corse ad aprire l'uscio e poiché il freddo mi consigliava di ricacciarmi sotto le coltri mi avvicinai al tavolino per posarvi la lettera sotto il premicarte ma quale fu il mio terrore quando vidi sparita la rotella e al suo posto trovai il nastro nero che vi aveva lasciato Pietro Mariani e al suo posto Grazie a tutti